Ci racconti un po' di te prima di raccontare quanto è accaduto? Sì, io ho 38 anni, sono mamma di una bimba di 5, lavoro a Lugano al conservatorio della Svizzera italiana e quel 9 febbraio qualcosa è successo. Mi dicevi era una bella giornata invernale, si caricano gli sci in macchina, si prepara tutto il necessario e si parte per una giornata appunto di sci. Cosa succede? Succede un imprevisto, succede qualcosa che nessuno si aspettava potesse succedere e il mio cuore si ferma improvvisamente ai piedi del tapirulan che c'è a Campoblegno. e fortunatamente c'erano le persone giuste che non hanno esitato a soccorrermi e il mio cuore si è fermato ma loro l'hanno fatto ripartire. Tu dove ti sei risvegliata? Io mi sono risvegliata diversi giorni dopo in ospedale, ho fatto alcuni giorni di coma, al mio risveglio hanno aspettato un attimino che riprendessi un pochino insomma anche di coscienza, di forze e mi hanno impiantato un defibrillatore e poi pochi giorni dopo sono tornata a casa e la mia vita è ripresa più o meno come prima. Quando insomma hai saputo cos'era successo, che reazione hai avuto, cos'hai pensato? Non ci credevo, ho fatto fatica a crederci, ancora oggi a distanza di un anno stento a farlo e poi mi concentro su com'è finita, cioè è bene, meglio di così non poteva finire. Fortunatamente questa è una storia a lieto fine, siamo davvero felici. Senti, degli angeli ti hanno salvato la vita e angeli quindi sono i soccorritori che hanno prestato il primo intervento, sono le persone che erano lì con te. Oggi che cosa provi nei confronti di questi Cavalieri del Cuore? Provo una gratitudine infinita, fanno parte della mia vita, li sento spesso, li vedo e non mi stanco mai di ringraziarli per aver fatto ripartire il mio cuore e per avermi permesso di continuare a vivere e di vedere crescere la mia bambina.